Se avete bisogno di crediti passate da Pipcoins FIFA, sono veloci, sicuri e affidabili. In più, con il codice MALATI15 che troverete qui sotto in descrizione, riceverete il 5% di crediti in più. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, bentornati sul canale di Noi Malati di Futio, sono FIFA Orso E oggi prima di iniziare ci tengo a salutare tutti quanti perché sono tornato dalle vacanze estive E sono molto felice di poter portarvi nuovamente, finalmente, una player review Senza perderci in chiacchiere, iniziamo subito Oggi sono qui a portarvi la review di Miki Batsuai Perdonate la pronuncia, perdonatemi la pronuncia Ma non sono informatissimo per quanto riguarda la pronuncia del suo nome Però andiamo, diciamo, subito a vederlo Allora, Miki Batsuai, giocatore che milita nella Ligan, nel Marsiglia Ragazzi, si presenta in questa sua versione IF con 78 di overhaul Con un più 2 rispetto alla sua carta base Ha i seguenti valori sulla carta 83 di velocità, 80 di dribbling, 83 di tiro, 30 di difesa, 60 di passaggio e 70 di fisico Ha 4 stelle di piede debole e 3 stelle di skill, 3 stelle di mosse abilità Allora, è un giocatore, ragazzi, che mi ha colpito moltissimissimissimo Perché riuscite ad aggiudicarvelo, diciamo, al suo prezzo minimo Almeno su PlayStation è così Io l'ho preso vicinissimo al suo prezzo minimo Ed è il vostro giocatore di fiducia Perché con pochissimi crediti vi portate a casa uno che sicuramente fa bene tutte le partite Fa il suo in tutte le partite Andiamo però a vedere, appunto, come al solito, i pro e i contro Partiamo dai pro, il primo pro di oggi è la velocità Con 83 e con 82 di accelerazione e 84 di velocità scatto Ha davvero un'ottima, ottima velocità Che si amalgama bene con il dribbling, ragazzi Dribbling che è un 80, un valore quindi molto buono Che però non ho inserito tra i provi anticipo Perché non è così rilevante da essere un pro Ma comunque basta per, appunto, andare d'accordo Amalgamarsi molto bene con la sua velocità Infatti, se puntate l'avversario, magari suola O comunque anche semplicemente muovendo la levetta analogica O le freccette, non so come vi muovete Riuscite a saltare tutti gli avversari E in velocità, veramente, ragazzi E' veramente, veramente buono questo giocatore Partiamo adesso, andiamo, scusate Con il secondo pro di oggi Il secondo pro di oggi che è veramente pazzesco, ragazzi E' il tiro, tiro di 83 che si divide in 77 di posizionamento 88 di finalizzazione, 83 di potenza tiro 78 di long shot, 77 di tiri al volo e 70 di rigori Fa bene qualsiasi tipo di tiro, ragazzi Sottoporta ve la sbatte sempre sotto l'incrocio Mi faceva dei gol pazzeschi sottoporte Non sbaglia mai Ha una finalizzazione quindi pienamente rispecchiata Appunto durante le partite, durante il gioco Dei long shot, ragazzi Che sono anche qualcosina di più in gioco Perché mi ha fatto un tiro dalla distanza Aggiungo con il suo piede debole Con il sinistro, ragazzi E ha fatto un gol veramente pazzesco Andiamo adesso a collegarci Al terzo ed ultimo pro di oggi, ragazzi Che sono le 4 stelle di piede debole Perché mi collego subito alle 4 stelle di piede debole Perché come vi ho detto e come avete visto nei video Ha fatto un gol pazzesco Con il piede sinistro Con il mancino, ragazzi Quindi 4 stelle di piede debole Che si sentono tantissimo su questo giocatore Di contro ce ne sono pochi Non tanto rilevanti Però ha i suoi contro piccolini I suoi contro, ragazzi Sono l'aggressività Perché quando gli rubano il pallone Ci si fionda subito sopra Ma non con l'aggressività giusta Non riesce ad andarsi a riprendere il pallone, ragazzi E il secondo contro è la stamina Non sempre, ma ci sono delle partite Dove siamo verso l'ottantesimo Dove magari devi dare lo sprint finale Dove lui ormai è inesistente, ragazzi Questi sono, riassumendo i pro e i contro Di Batsuai Il voto finale che gli do è un 9 Perché vi ho spiegato A un prezzo che va su Playstation Dai 20.000 ai 40.000 crediti E su Xbox da 18.000 a 36.000 crediti E per pochissimi, appunto, crediti Vi portate a casa un giocatore di fiducia Detto questo, ragazzi La review finisce qui Io vi invito a lasciare un like Se il video vi è piaciuto Un commento con il vostro parere E vi invito a iscrivervi al canale Se non lo avete ancora fatto Da VForce è tutto Noi ci vediamo alla prossima review Ciao ragazzi Ciao